Il Teramo batte il Mestre per 2-0, due reti nella ripresa al 19 di Nebil Kaidi, al 39 di Riccardo Barbuti e la squadra di Antonino Asta si regala un felice Natale. Non è stato un bel Teramo, soprattutto nel primo tempo la squadra biancorossa ha sofferto la migliore organizzazione per larghi tratti della partita del Mestre. Poi però le cose sono cambiate nella ripresa grazie anche agli innesti dalla panchina, innesti operati dal tecnico Asta, in particolare Barbuti che era entrato al posto di Tulli dopo l'intervallo, poi anche gli innesti di Sumare e Amadio. Mestre che alla fine del primo tempo aveva sfiorato il gol in due circostanze, prima con Zecchin, poi con Stefanelli, bravo in questo secondo caso Lewandowski che oggi è stato preferito a calore. Nella ripresa, come detto, il Teramo ha sbloccato al 19 con un'azione a calcio d'angolo, con Bacio Terracino che ha pennellato in mezzo, sponda di Barbuti e correzione sul secondo palo di Kaidi. Il Teramo ha sofferto per un tratto, poi l'innesto di Amadio ha riportato maggiore ordine a centrocampo e con una classica azione di rimessa ispirata da Sumare, complice anche a un errore del difensore del Mestre, Boffelli. Sumare ha offerto il pallone a De Grazia, poi complice un rimpallo, Barbuti ha finalizzato l'azione e dunque il Teramo ha vinto questo importante confronto sul Mestre. Mestre ha agganciato in classifica, il Teramo si regala un bel Natale, si ferma per ora la stagione della squadra di Asta che tornerà in campo il prossimo 20 di gennaio, sempre al Bonolis ospitando il Vicenza perché il Teramo riposerà nel prossimo turno, quello appunto del 30 di dicembre. Grazie a tutti.